Questa non la può fare. Non le ho chiesto neanche se viene chiuso l'ospedale di sessi levante, le ho chiesto che attività chirurgica viene svolta. Lei mi ha letto il pezzo dell'atto aziendale che riguarda i lavori di adeguamento. La domanda è delle sale di lavagna o delle sale di sessi levante? Perché cambia un po'. Se mi si dice che attualmente le attività chirurgiche restano a sessi, in attesa di lavori di adeguamento di lavagna o di rappallo, è un conto. Se invece si dice che le sale operatorie di sessi levante dovranno essere adeguate, sistemate e le attività rimarranno lì, è un altro. Ora, la risposta vede che è in parte parziale. Lei mi dice che si svolgeranno delle attività chirurgiche di bassa complessità. La domanda che le faccio è rimane di nuovo la week surgery, la day surgery e la sessi levante? Io dalla risposta non l'ho capito. Se posso avere la risposta scritta o una copia, gliene sono grato perché così almeno posso capire pienamente se è una cosa transitoria o una cosa che verrà messa negli atti di programmazione. E lo dico, non lanciamo alcun messaggio di mancata senerità o di preoccupazione, però di fronte a una mancanza di chiarezza si devono dare risposte chiare. Continueremo a chiedere chiarezza, se è una cosa transitoria o una cosa che farà parte strutturalmente dell'attività nel futuro. Ad oggi questo non c'è ancora. C'è ancora, c'è un'altra vocazione per gli ospedali di sessi. E' una parte di vocazione e non si capisce quale sarà il polo a bassa complessità. In attesa delle lavorazioni sarei interessato a capire che cosa si intende.